Gli inquirenti veneziani hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di Filippo Turetta, il 22enne di Padova sotto inchiesta per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin, la cui scomparsa sta attirando l'attenzione dell'opinione pubblica. La magistratura sostiene che Turetta avrebbe messo in atto una serie di azioni non equivocabili finalizzate a causare la morte della giovane, in un apparente tentativo di impedirne la fuga. Emergono preoccupazioni che l'indagato possa essersi allontanato dall'Italia dopo essere diventato irreperibile. I dettagli del conflitto, che ha raggiunto il suo apice sabato scorso, emergono da un filmato di sorveglianza esterno alla fabbrica di Christian Dior a Fossò, situata nella riviera del Brenta. Sebbene la qualità delle immagini non sia ottimale, la sequenza degli eventi è chiara. Il video mostra Giulia Cecchettin che viene colpita da Turetta durante una lite, e poi la sua violenta aggressione che la lascia a terra, apparentemente inanimata, prima che lui la carichi sulla sua auto e si allontani dal luogo del crimine. Questo contrasto agghiacciante con l'immagine pubblica di Turetta come un giovane rispettoso e per bene sconvolge la comunità, compresi i parenti di Giulia. La vicenda era iniziata poco prima, quando un vicino aveva osservato una discussione accanto a un'auto scura, dove una donna, presumibilmente Giulia, chiedeva di essere lasciata e veniva costretta a salire in macchina. Il contesto è ancora più straziante considerando che Giulia Cecchettin stava preparando la celebrazione della sua laurea in ingegneria biomedica, prevista per la settimana scorsa all'Università di Padova. Tutto era pronto per il grande giorno, tranne le scarpe che avrebbe dovuto acquistare quella sera stessa, accompagnata da Filippo, suo ex fidanzato che sperava in una riconciliazione. Il racconto della serata segue i loro spostamenti, la cena tranquilla al McDonald's e il messaggio di Giulia alla sorella circa le scarpe, seguito da un silenzio insolito. L'ultimo segnale dei loro cellulari viene rilevato a Fossò, prima che i due iniziassero a litigare e prima che la situazione degenerasse. Da allora Giulia rimane introvabile, con la sua storia ora raccontata solo dalle telecamere che hanno catturato la targa della Fiat Grande Punto di Filippo in fuga verso l'Alto Adige. Secondo te Giulia è stata uccisa? Oppure potrebbero essere in fuga all'estero? Scrivilo nei commenti in basso al video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime notizie.